Santa, una mafia che vive e si radica nel silenzio di una parte della chiesa che non prende ancora una posizione ufficiale contro. Una mafia che permea la società e che si sviluppa grazie alla collusione di funzionari pubblici e imprenditori e grazie alla mancanza di una repressione strutturata a livello europeo. La stessa a Palermo, a Reggio Calabria, a Milano e a Stoccarda. E questa è l'estrema sintesi del libro Santa Mafia da Palermo a Duisburg Sangue, affari politica e devozione, scritto dalla giornalista tedesca Petra Reschi e presentato nel Rettorato di Lecce. Abbiamo un Vaticano che non è mai in questi anni riuscito a rilasciare per esempio un documento, una posizione ufficiale sulla quale si potrebbe anche riferire ogni piccolo prete in un piccolo paese perduto che di sentirsi un po' sostenuto. C'è solo questo generico, noi saremmo contro la mafia, però non c'è mai stata una posizione chiara e netta del Vaticano. Un incontro che rientra nel ciclo di appuntamenti di mafia si è scritto, organizzato dal Dipartimento di Scienze Giuridiche dell'Università del Salento. È voluto direttamente con la reporter che nel 2008, proprio per la pubblicazione di questo libro, è stata eletta in Germania miglior giornalista dell'anno, nonostante proprio nel suo paese l'edizione originale sia stata pubblicata, censurata, per volere dell'autorità giudiziaria intervenuta su richiesta di alcuni esponenti politici. Sono stata censurata perché il tribunale tedesco ha ritenuto opportuno annerire le pagine che hanno da fare con alcuni protagonisti del mio libro e politici tedeschi. L'ho trovato molto particolare perché riflette un atteggiamento troppo garantista nei confronti della mafia. Petra Reschi comunque rimarca l'importanza di non subire il bavaglio, parlare di mafia, scrivere di mafia serve a creare una coscienza, tanto tra i cittadini quanto tra le istituzioni anche oltre l'Italia. Oggigiorno si tratta soprattutto di un capitalismo mafioso che riguarda tutti, non ha da fare con cose folcloristiche, con rite di iniziatone. Qui si tratta solo di riciclare, di investire i soldi dove c'è ovviamente un benessere. Un esempio per tutti in Germania, nonostante il radicamento storico ormai della criminalità, non esiste ancora il reato di associazione mafiosa e non è ammesso l'uso intensivo delle intercettazioni quanto la confisca dei beni.